Lo sapete come abbiamo deciso di scendere sul piede di guerra? Se veniva a testa, continuavamo a cercare un impiego. Invece era croce. E via con le banche. Freddo, selvaggio. Dai, dai! Non ci fermava nessuno. Massettati di figa, di soldi e violenti. La polizia mi cercava nei bassi fondi. Ma io ero negli alberghi a 5 stelle. Voi vedete una bella donna e dice mi piacerebbe. Noi dicevamo la voglio. E la legge vince più forte. Quella era la mia guerriglia. La mia lotta. Brecht diceva che è più criminale fondare una banca che rapinarla. E io sono d'accordo con lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.